Sì, signor Malvagna, buongiorno, sono l'Avvocato Sinatra. Buongiorno. Le chiedo, lei ha fatto parte di qualche organizzazione mafiosa, se sì, quale? Ho fatto parte dell'organizzazione mafiosa Pulvirenti-Santa Paola dal 1982 all'11 marzo del 1994, data in cui ho iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria. Organizzazione che operava in quale territorio? Organizzazione che operava prevalentemente nel Catanese, ma non solo nel Catanese, operava anche al di fuori della provincia di Catania, nell'ambito del territorio nazionale e anche all'estero, se capitava. Avevate anche contatti con personaggi di Palermo? Sì, avevamo stretti contatti con personaggi di Palermo. Ed in particolare con chi? In particolare, noi li chiamavamo gli amici di Palermo, erano i corleonesi che facevano riferimento a Totoreina. Le persone maggiormente che mantenevano i contatti che venivano a Catania o da Catania le andavano a trovare a Palermo, in quell'epoca erano Antonino Gioè, Gioecchino La Barbera, Santino Di Matteo e Giovanni Brusca. Ma quelli che venivano più spesso erano il Gioè e La Barbera. Questi contatti in quale anno avvennero? Questi contatti esistevano già da prima. Quando ne sono venuto io a conoscenza, sto parlando del 1991, 92 e 93. Fino al 93, sì. Vi furono anche scambi, diciamo, di favori da un punto di vista delinquenziale con le persone di Palermo? Sì, sì, vi furono, vi erano continui scambi di favore. Uno degli scambi di favore vi erano anche dei reati che venivano posti in essere con, diciamo, il beneplacido degli amici di Palermo. Tipo, per citarne uno, la famosa estorsione che ai magazzini standa, dove sono stati fatti quegli attentati, quella era un'estorsione che si faceva in concomitanza con gli amici di Palermo. Poi vi erano anche altri tipi di reati. Vi era stato anche scambio di armi? Vi era scambio di armi o di altro? Sì, vi era stato uno scambio di armi. Nel 1992, nella nostra organizzazione, arrivarono delle armi dell'ex Yugoslavia, se non vado errato. E so che un po' di armi e un po' di esplosivo, era dell'esplosivo di tipo militare, è stato inviato a Palermo, agli amici di Palermo. Poi, sempre nel 1992, il gruppo Polvirente Santa Paola si è interessato a riperire due comandi a distanza che sono stati consegnati agli amici di Palermo. Facendo un passo indietro, a proposito delle armi e dell'esplosivo, non può essere più preciso quando avvenne questa consegna e che tipo di materiale era? Cioè, intanto il tempo e poi mi dice anche se lei personalmente vide queste armi e questo esplosivo. Le armi e l'esplosivo lo vidi personalmente perché quando arrivarono il contatto per comprare queste armi è stato creato dal gruppo del Malpassoto, strettamente collegato con il gruppo Santa Paola naturalmente. Quando arrivarono queste armi sono stati depositati, perché sono arrivati in due volte, non sono arrivati tutti in una volta. Sono stati depositati in dei luoghi dove il Malpassoto aveva dei rifugi che trascorreva la latitanza. Dopodiché sono stati suddivisi con il gruppo di Catania e dopodiché so che hanno mandato adesso non mi ricordo di preciso quante pistole o quanti fucili e mi ricordo che si parlava più che altro di armi pesanti perché c'erano dei lanciamissili e di quell'esplosivo particolare che io non avevo mai visto quel tipo di esplosivo e l'ho visto quella volta che dicevano che aveva un alto potenziale distruttivo. Era un esplosivo, sembrava del riso, sembrava. Sembrava? Sembrava del riso. Del riso? Sì. Di che colore era? Era un beige, giallo paglierino, una cosa del genere. E dove era contenuto questo esplosivo? Era contenuto in dei sacchi, doppi sacchi. Il primo era un sacco di juta, l'altro era un sacco plastificato, ma una plastica non di quella resistente. Ma era, le ha detto, era come se fossero dei chicchi di riso. Sì. E quindi, quando lei l'ha visto, erano tutte e due contenute nei sacchi, avevano lo stesso colore o avevano colore differente? Era unico? Non ho capito, avevo lo stesso. Dico, lei ha visto due sacchi, giusto? No, erano più di due sacchi. Ah, erano più di due sacchi, quindi? Sì, sì. E provenivano da dove? Il luogo preciso non lo so. So che venivano dall'ex Jugoslavia. Ma questo chi glielo disse a lei? Ma ce lo disse direttamente chi è che ha curato l'approvvigionamento. Quando noi abbiamo messo i soldi per mandarlo, perché era tramite una persona che vantava delle amicizie con personaggi che avevano o erano ancora inseriti nei servizi segreti di questi paesi dell'ex Jugoslavia, dove si poteva acquistare di tutto. E allora è stato acquistato questo quantitativo di armi, di esplosivo. Le armi particolari erano questi lanciamissili, poi c'erano dei fucili 30-30 che hanno, loro dicevano, una potenza e una gettata molto di più di un Kalashnikov o di un fucile di precisione. Loro parlavano che fino a un chilometro, un chilometro e mezzo il proiettile c'entrava il bersaglio. E questo è esplosivo. Ora, le chiedo, rispetto a quello che sta affermando, può essere più preciso quanto al tempo della venuta consegna poi a Palermo dell'esplosivo? Guardi, più preciso siamo, adesso il giorno preciso non glielo saprei dire, siamo nella prima, prima, fine inverno, primavera del 1992. Se vogliamo fare riferimento con gli eventi delittuosi delle stragi, siamo... Le ha saputo, le sa, quando è stata la strage di Capaci? La strage di Capaci è stata il 23 maggio. La strage del dottor Borsellino il 16 luglio, se non ricordo male. Comunque siamo... Marzo. Rispetto all'evento Capaci, quanti mesi prima? Pochi mesi prima. Marzo-aprile. Quindi marzo-aprile. Marzo-aprile, se non vado errato, però è passato tantissimo tempo, potrei anche sbagliarmi. Comunque le armi a noi e l'esplosivo ci sono arrivati d'inverno. Aspetta, aspetta un attimo, quando lei dice potrei anche sbagliarmi circa il mese o circa l'anno? No, no, circa il mese. Quindi circa il mese, quindi per l'anno che si sia trattato del 92, lei ha un ricordo certo. Non ricorda il mese, se non ho capito male. Sì. E comunque prima della strage di Capaci. Sì. Ora, le chiedo, chi ha provveduto al trasporto a Palermo dell'esplosivo? Lei ha un ricordo o una conoscenza? Ma io non ho conoscenza diretta perché non ho visto materialmente chi ha trasportato. Ho le conoscenze di quello che si diceva all'interno dell'organizzazione. e so che è stato fatto, sono venuti direttamente i palermitani, però non so se l'hanno trasportato loro oppure è stato trasportato da altri. So che è stato fatto però in due volte. E una volta è stato usato un carabiniere che noi avevamo a stipendio, che prima lavorava in provincia di Messina, mi ricordo, a Santa Teresa di Riva. e poi per questioni è stato trasferito a Palermo, l'avevamo presentato agli amici di Palermo e questo carabiniere ci forniva informazioni riservate e ci dava anche delle notizie. e un trasporto è stato fatto direttamente da questo carabiniere. Sempre per quelli che sono i suoi ricordi in quel periodo di tempo? Sì, se non vaderato in quel periodo di tempo. Lei ha conosciuto tale Avola? Io conosco un'Avola, Avola Maurizio conosco. E come l'ha conosciuto? L'ho conosciuto perché facevamo parte della stessa organizzazione e l'ho conosciuto, la prima volta che l'ho conosciuto eravamo detenuti insieme al carcere di Piazza Lanza nel 1983. Per quelle che sono le sue conoscenze, l'Avola, come dire, anche lui aveva avuto contatti con persone di Palermo? Sì, l'Avola è un grosso personaggio dell'organizzazione. che fa riferimento direttamente a Santa Paola era il braccio destro di Marcello Dagata, in mancanza di Marcello Dagata, che era un consigliere familiare della famiglia di Nitto Santa Paola, famiglia inserita in Cosa Nostra. L'unica famiglia che c'è, perché a Catania, a differenza di Palermo, c'è una sola famiglia, non ci sono i mandamenti. E quindi in mancanza della Dagata, l'Avola, ne assumeva le sue veci, era la persona più influente. Quindi, diciamo, aveva anche dei compiti deliberativi in tema di reati associativi? Sì, deliberativi e poi ha fatto una marea di omicidi a Avola. Una cinquantina del famiglia. E le chiedo poi se lei ha conosciuto tale Cattafi. Non ho sentito bene. Cattafi. Tale Cattafi. Io personalmente non l'ho conosciuto tale Cattafi, lo conoscevo solo di nome. Cosa sapeva? Cosa sa? Tale Cattafi, se è il personaggio che mi è stato indicato a me, è una persona del Messinese. E in particolare di Bar... Noi lo collochevamo verso Barcellona-Pozzo di Gotto. Una persona che era tenuto in altissima considerazione all'interno della famiglia Catanese e per quanto mi dicevano anche dai palermitani. Una persona che all'epoca mi dicevano essere incensurata e avere un ruolo di prestigio all'interno di Cosa Nostra in quanto a Messina i referenti primari erano il Santa Paola direttamente e per quanto riguarda gli amici di Palermo direttamente il cognato di Reina, Leo Luca Bagarella. In poche parole, lui insieme ad un altro, un certo Gullotti il Gullotti rappresentava l'ala militare ma lui era, diciamo, la mente decisionale. Queste circostanze lei quando venne a saperlo? Questa è l'ultima mia domanda. Queste circostanze sono venuto a saperlo nel 1991-92 più forte si è parlato di questo personaggio in termini di alta affidabilità si è parlato di questo personaggio anche che avesse un sacco di amicizie con il mondo dell'imprenditoria con personaggi delle forze dell'ordine si diceva che in un gergo dialettale era immanicato con i servizi segreti e si ventilava che fosse anche mezzo massone se non addirittura. A tal riguardo voglio riferire un fatto nel 1992 ebbe in carico dal capo di Cina Aldo Ercolano di andare a visionare un immobile che si trovava in un paese adesso non mi ricordo in provincia di Messina il nome del paese non me lo ricordo comunque era vicino Letoianni mi sembra dove esisteva una villa antica in quanto loro intendevano acquistare quest'immobile dove dovevano creare una specie di club loro parlavano una specie di club Rotary una cosa del genere in cui si dovevano tenere delle riunioni sia con gente che faceva riferimento alla cosa nostra e sia con degli imprenditori e anche gente delle istituzioni in cui dovevano passare cioè dovevano fuoriuscire da questi da questi incontri dei grossi progetti affaristici per quanto riguarda cosa nostra era la penultima domanda adesso viene un'altra Presidente posso allora io le chiedo lei è superfluo rispetto a quello che ho detto prima c'è un senso che abbiamo acquisito il verbale lei è stato già sentito nel processo Capaci 1 ricorda Capaci 1 sarebbe il processo diciamo la strage di Capaci il primo processo che è stato fatto nel 96 sono stato sentito nel 96 le chiedo lei è domiciliato presso il servizio centrale di protezione giusto? sì io sono titolare di programma speciale di programma speciale lei durante la sua collaborazione ha avuto il riconoscimento dell'articolo 8? sempre va bene non ho altre domande un chiarimento su una di queste domande lei parlava del fatto che si diceva che era ammanicato legato ai servizi segreti chi lo diceva? ecco se ha qualche precisazione che può fornire su questo punto ma lo dicevano i vertici dell'organizzazione lo diceva il Santa Paola lo diceva Ardel Colano lo diceva Salvatore Santa Paola fratello di Nitto e Piero Puglisi me l'ha detto questi erano in quel periodo erano poi quando se ne è parlato c'erano anche altri personaggi come Eugenio Galea che erano i personaggi più in vista quelli che in quel momento portavano avanti la famiglia catanese e quindi io mai mi sarei sognato di mettere in dubbio questo che loro dicevano poi non lo so può essere vero non può essere vero questo qui non ha elementi per giudicare sì allora prego ci sono le altre parti che devono fare domande abbiamo lo stesso problema ci hanno incollato i microfoni temono che li portiamo via sì ecco Malvagna buongiorno e il pubblico ministero senta qualche precisazione solo in merito a questo carico di armi e di esplosivo che lei dice arriva nel marzo 92 aprile 92 giusto ecco no il carico arriva tra non mi ricordo se era dicembre o gennaio nel marzo 92 intendevo io sono venuto a conoscenza che era stato mandato non mi ricordo se era un lanciamissili un bazooka useggetta adesso non ricordo è dell'esplosivo a Palermo e chi glielo dice me lo dice mio cugino Piero Puglisi me lo dice Alder Colano ma poi quando sono state divise le armi perché come ho detto prima queste armi sono arrivati in un posto dove il malpassoto aveva una campagna che la usava per la sua latitanza e poi alcune di queste armi sono stati occultati in un posto a distanza di qualche chilometro dove poi nel 1992 è successo che una persona che faceva riferimento direttamente ad Aldo Ercolano perché Aldo Ercolano per quanto riguarda la custodia delle armi aveva incaricato come massimo responsabile un certo Filippo Brangiforti questo Filippo Brangiforti aveva l'utilizzo di una casa rurale a distanza di un chilometro un chilometro e mezzo e aveva incaricato un muratore di sua fiducia di ricavare un'intercapedine all'interno di questa casa rurale questo muratore venne arrestato e se non erro cominciò a collaborare con la giustizia e ci indicò e vennero trovate alcune di queste armi che erano venute che facevano parte di quell'otto di fatti in quel periodo c'è stato un po' di arrabbiatura a Catania su questa cosa ecco in che periodo siamo qua siamo nella primavera del 1994 se non va derrato siamo aprile senta dal surico se lo sai quando venne sequestrato poi questo quantitativo di armi sequestrano anche dell'esplosivo o no? mi sembra che l'esplosivo no solo le armi le armi noi quando li vidimo a parte che lo sapevamo che erano non erano tutte c'erano anche altre armi che loro avevano da prima ah ho capito cioè era un deposito quello sì quello lì era un deposito c'erano sì senta ci dico una cosa questo carico che arriva dalla ex Jugoslavia sì diciamo tra il dicembre 91 e il gennaio 92 giusto? sì lei sa da chi fu organizzato questo affare questo trasporto se già c'entravano i palermitani o era un affare solo di malpassoto e soprattutto chi era malpassoto? allora il malpassoto era faccio una premessa voglio fare il malpassoto era imparentato con me in quanto io avendo sposato la figlia di un suo fratello era un mio zio acquisito e quindi in quel periodo io ero una delle persone diciamo più vicine al malpassoto e il malpassoto è un uomo d'onore inserito nella cosa nostra catanese nella famiglia di Nitto Santa Paola e in quel periodo già da un po' ricopriva la carica di consigliere familiare per quanto riguarda quelle armi no scusi ci può dire come si chiama però Giuseppe Pulpirenti per quanto riguarda quelle armi e quell'esplosivo sì ne erano a conoscenza anche gli amici di Palermo però per quello che ho saputo io abbiamo messo non so se loro hanno partecipato a mettere il denaro per prendere quelle armi comunque l'acquisto di quelle armi è stato coordinato e diretto dai fratelli Guidotto e in particolare da Angelo Guidotto in quanto in quel periodo avevamo una base logistica in Toscana scusi scusi se la interrompo ci può ripetere il cognome i fratelli i fratelli Guidotto io non capisco ha detto Guidotto è giusto? sì ah Guidotto Guidotto sì per cui sono stati in quanti sono i fratelli Guidotto i fratelli Guidotto sono in tanti ma i più rappresentativi in quel periodo era Angelo e Melo Carmelo Guidotto addirittura Carmelo Guidotto era unitamente a Salvatore Grazioso capogruppo perché l'organizzazione del malpassoto strettamente collegata con il Santa Paola era siccome era diventata numerosa era stata suddivisa in vari gruppi e ogni gruppo faceva riferimento ad un paese e diciamo per in quel paese aveva non dico il controllo quasi totale ma abbiamo capito nel senso che allora questo affare viene gestito dai fratelli Guidotto è giusto? sono loro che lo propongono naturalmente è stato approvato sì ogni abbiamo dato la quota noi come gruppo del malpassoto la quota i catanesi e non so che quota hanno dato gli amici di Palermo e se l'hanno data sì e se l'hanno data e se l'hanno data e se l'hanno data senta c'è un particolare importante signor Pubblico Ministero la persona che ha creato il contatto era una persona toscana un certo Nico dopo tutto questo diciamo che è stato fatto questo questa operazione e se l'hanno ricordo già era successa la prima strage per motivi che mi sembra che siamo nel giugno del 1992 per motivi che noi avevamo paura qualora siccome questo qua era venuto in Sicilia era venuto poi stazionava sempre lì a San Giovanni Galermo dove il gruppo del guidotto e del grazioso avevano la base operativa diciamo era come una persona che avevano lì inserita con loro siccome avevamo paura che potesse essere controllato dalle forze dell'ordine e parlare perché già un paio di volte l'avevano attenzionato le forze dell'ordine anzi c'era arrivata anche una mezza voce che questo qui era anche mezzo confidente e l'abbiamo eliminato per non lasciare tracce e contatto perché era stato lui il contatto con queste persone dell'ex Jugoslavia allora senta questa persona di nome Nico viene ucciso nel giugno 92 o in quei mesi lì insomma giusto adesso posso in quei mesi lì può essere luglio lei sa da chi viene ucciso si viene ucciso da è partecipato Carmelo Guidotto direttamente c'era Giuseppe Barbagallo se non vado errato e altre due persone e dove è stato ucciso in una villa in zona di Mister Bianco una villa in una zona di Mister Bianco che si chiama Madonna degli Ammalari che sarebbe diciamo il vecchio paese di Mister Bianco che era stato distrutto dall'eruzione vulcanica ed era diventata tipo una zona residenziale una villa volevo dire dove noi l'avevamo usata più volte per fare degli omicidi ho capito senta questo lei di Nico non sa altro io di Nico l'ho visto alcune volte so solo che era di Firenze e che aveva queste amicizie però e poi so che è stato ammazzato e quando siccome in quel periodo ero molto attivo negli omicidi e siccome nessuno specialmente i guidotto che erano responsabili di questa di questa cosa ritenevo opportuno che se ne occupassero direttamente loro di fatti ebi addigli perché io principalmente gli omicidi li commettevo con Orazio Cavodullo e Giuseppe Barbagallo senta Malvagna scusi se la interrompo perché ci interessava approfondire il personaggio Nico si Nico è comunque fiorentino non ha collegamenti parentali con la Sicilia questo non glielo so dire lo conosco poco nemmeno se è fiorentino la parlata gli dava un po' la cadenza del Toscano però la parlata può anche darsi che era stato lì per parecchio tempo e aveva preso questa cadenza lei da quando sente parlare di Nico ovvero quando lo conosce rispetto a questo affare delle armi e dell'esplosivo ma io siamo nel 1991 che loro facevano lì sopra estorsione rapine e poi è successo che hanno fatto se non vado errato mi sembra nel giugno del 1991 una rapina a Tirrenia in cui non è andata bene e ci sono stati degli arresti e di lì già ho sentito parlare di questo Nico e mi ricordo che era stato arrestato Franco Stimoli che apparteneva allo stesso gruppo che poi ho diretto io e altri adesso i nomi non me li ricordo un certo Bonaccorsi Stefano Bonaccorsi Stefano Bonaccorsi mi sembra una cosa del genere vediamo se ho capito scusi questo Nico che sta in Firenze insomma in Toscana è in rapporto con i Guidotto giusto? sì perfetto poi i Guidotto commettono insomma dei reati in Toscana e nel giugno del 91 vi è questa rapina a Tirrenia giusto? sì pertanto lei sente parlare di Nico dai Guidotto sì sì i Guidotto dicono che questo qua è un amico che gli dà gli appoggi e che questo qui ha l'opportunità gli ha parlato di avere queste conoscenze di poter acquistare ma Nico che faceva nella vita lo sa lei o no? lui che che mestiere faceva? no sì nel senso com'è che aveva queste conoscenze aveva un lavoro particolare oppure oppure no non lo so le faccio una domanda più diretta sì era un ex appartenente alle forze dell'ordine aveva avuto contatti nel passato con le medesime ovvero no che lei sappia ma se era un ex appartenente alle forze dell'ordine non lo so so che aveva amicizi con le forze dell'ordine su in Toscana in Toscana ecco e poi queste notizie su Nico scusi tanto per personalizzare gliele dà Guidotto Carmelo? sì sia Guidotto Carmelo che anche Guidotto Angelo che Angelo ho capito senta e poi il fatto che Nico sia stato interessato abbia stimolato questo affare questo acquisto di armi ed esplosivo lei lo sa sempre da Angelo e Carmelo Guidotto? sì noi gli abbiamo dato i soldi non è che potevano venirci ecco ma ci può spiegare un po' come va questa cosa cioè queste a un certo punto vengono e dicono c'è da fare un affare e c'è Nico che ci procura queste armi dalla ex Jugoslavia sì questi qua venivano facevano sali e scendi anche perché noi avevamo oltre l'obiettivo di conquistare territorio lì in Toscana sì siccome lì in Toscana cercavamo delle persone che ancora eravamo in contrasto che c'era stata una guerra a Mister Bianco con un gruppo che era diretto da un certo Mario Nicotra detto Mario Utupo e tante persone sono state ammazzate tra cui anche il Nicotra alcune di queste persone sono scappate e sono scappate in Toscana e sapevamo che bazzicavano nella zona di Prato e loro erano lì sia per diciamo acquisire predominio in quel territorio e sia per poter individuare queste persone e poterle ammazzare e venivano e si rapportavano sempre con noi lì le cose stanno andando così stiamo facendo delle istorsioni stiamo facendo delle rapine siamo riusciti a sapere delle notizie su questi qua e poi nel frattempo si erano creati anche degli appoggi con delle persone diciamo non lo so incensurate o se erano pregiudicate non lo so perché per quanto riguarda quella rapina so che sono state anche attenzionate delle persone che gli avevano dato degli appoggi logistici tra cui c'era anche questo Nico che per me era solo un nome non lo conoscevo completamente io l'ho conosciuto dopo che loro hanno portato questa proposta noi questa proposta l'abbiamo discussa con i vertici del gruppo Santa Paola e il gruppo Santa Paola ha detto va bene prendiamo facciamo una prova vediamo perché delle volte queste cose partono però come si dice o il carico non arriva o viene intercettato facciamo una prova vediamo queste armi come sono e così abbiamo sono di fatti sono arrivati in due tronconi le armi non sono arrivati in una volta Senta in relazione a questo fare vediamo se lei ne sa un po' di più sulle citando il ricordo vi è questa diciamo proposta verso dicembre 91 no? questo questo carico di armi ed esplosivo lei ha detto arrivava dalla ex Jugoslavia giusto? sì ecco in merito a questa situazione ne sa un po' di più o no? cioè come arrivava dalla ex Jugoslavia da dove provenivano queste armi e questo esplosivo? allora io so che queste le armi dalla ex Jugoslavia a farli entrare in Italia era il contatto che aveva questo Nico che io non so chi fossero sapevo soltanto che erano degli ex combattenti lì dicevano gente che era stata con i servizi segreti e dovevano cioè avevano un sacco di armi addirittura parlavano se avete bisogno un elicottero se avete bisogno un carro armato parlavano di cose di cose anche di questo genere e che io sappia l'incontro per come è stato raccontato diciamo dai sia dal guidotto e poi è andata a supervisionarla anche questa cosa Salvatore Grazioso direttamente lì a Firenze l'accordo è stato stipulato in Toscana adesso non lo so se erano a Firenze o a Prato dove le armi sono arrivate lì poi da lì il gruppo si è interessato a farli portare giù in Sicilia e per il trasporto di queste armi se non vado errato è stato usato il il fratello di Andrea Ventura che aveva faceva il camionista faceva l'autotrasportatore ecco senta poi lei quando arrivano ovvero qualche tempo dopo ha detto che le ha viste queste armi e questo esplosivo sì io li ho visti tutti e due i carichi e quando sono arrivati sono stati scaricati e li abbiamo messi erano stesi per terra non le dico che li ho visti cioè li ho contati una per una certo però li ho visti tutti e due perché si trattava di armi di pistole e pezzi di recano scusi se la interrompo restando all'esplosivo ecco quando arrivano poi queste armi questo esplosivo scende anche Nico in Sicilia o no? sì dopo che è arrivato il secondo carico questo qui ha preteso di scendere giù in Sicilia senta tra il primo e il secondo carico quanto passa? poco? ma poco non passa tanto siamo nell'arco tutta l'operazione è stata fatta in un mese massimo in un mese in due viaggi in 15 giorni di distanza e le ha fatte sempre questo Andrea Ventura cioè scusi il fratello di Andrea Ventura se lo sa eh ma io la prima volta è stato lui penso che la seconda volta è stato non l'ho visto non so se è stato lui pertanto lei scusi vede tutti e due i carichi o ne vede solo uno? no li vedo tutti e due il primo in particolare mi suscitava più curiosità il secondo ormai sapevo che era dello stesso tipo e non cioè l'ho visto ma non mi sono trattenuto più di tanto il primo invece cioè mi suscitava curiosità anche perché c'era il sto fucile particolare che poi mi aspettavo era era tipo un moschetto mi è sembrato a me però quelle che mi hanno dato più all'occhio erano i lanciamissili e i bazooka usa e getta quelli lì per esempio mi hanno attenzionato più e quel tipo di esplosivo che non avevo mai visto io perché normalmente noi come esplosivo usevamo o la polvere epirica la polvere nera o la dinamite la gelatina quell'esplosivo non l'avevo mai visto senta se lei sa indicarlo ma la quantità di questo esplosivo quant'era? proprio in generale eh ma la quantità so che era tanta adesso non lo so quanto erano i chili comunque tre quattrocento chili sicuramente se non di più ecco senta lei ha detto no? che eh questo esplosivo era contenuto sia in sacchi di juta che è in sacchi plastificati giusto? sì ecco dal suo ricordo queste erano confezioni originali cioè avevano delle scritte sopra ovvero no se se lo ricorda no questo non scritte penso di no non le ho viste non non me lo ricordo adesso le ho viste in quel modo perché dal sacco di juta non si vede non si riusciva a vedere il contenuto perché prima veniva tagliato il sacco di juta era tipo sembrava del grano come le posso spiegare era granuloso di fatti io ho guardato mio zio io ho detto ma sarà così potente questo questo cosa mi ha detto sì questo è un esplosivo particolare e poi con questo esplosivo abbiamo fatto una prova perché il confezionamento delle bombe che noi usevamo per le estorsioni se ne era diciamo il maestro era Giuseppe Pulvirendi il malpassoso era lui che li faceva io più volte glielo ho visti fare normalmente negli ultimi tempi non usevamo perché dapprima si usava mettere direttamente i candelotti di dinamite sfusi diciamo legati con il nastro adesivo poi lui aveva scogitato un metodo di mettere meno esplosivo e renderlo più potente incastrando questo esplosivo all'interno di un contenitore di latta dove lui colava colava dentro del cemento con pezzi di metallo queste cose così e poi metteva un tubo innocenti al centro poi venivano messi due tre quattro candelotti di dinamite o gelatina secondo la potenza dell'ordigno che si doveva fare per quanto riguarda questo esplosivo ricordo che un piccolo cioè io non sapevo nemmeno come si maneggiava perché si doveva non è che si poteva utilizzare in quel modo doveva essere tratta impastato mi diceva mio zio aveva preparato una bomba piccola che io ho incaricato a Raffa Giuseppe di metterla in un contenitore di acqua per l'irrigazione degli aranceti questo contenitore di acqua era di cemento armato e quella piccola quantità cioè mi ha raccontato il Raffa mi ha detto una cosa impressionante era non lo so 5 volte 6 volte più potente di un dell'esplosivo normale del tritolo o della dinamite senta cosa vuol dire impastato impastato che doveva essere bagnato e poi diventava tipo come posso dire tipo la creta quella che fanno cioè si impastava quei granoli si compattavano si compattavano ha detto si ah ho capito cioè aspetti un'altra vediamo se ho capito allora voi prendevate questi granelli è giusto si lei ha parlato di riso si sembrava riso ma è un po' come il sale grosso tipo come il sale grosso alcuni ma non era tutto uniforme perché io quando mi hanno aperto un sacco ci ho messo anche la mano dentro per vedere sembrava tipo riso però non erano tutti i chicchi dello stesso formato alcuni sembravano tipo coriandoli non lo so senta scusi le chiedo vediamo se se lo ricorda allora dal suo ricordo per quello che vale ovviamente avevano tutti la stessa forma cioè avevano forme regolari no non avevano forme regolari no senta un'altra cosa quando lei ha aperto il sacco ha avuto qualche sensazione sia tattile che che olfattiva ma olfattiva qualcosa di di odore lo faceva adesso sto cercando di sporzarmi al massimo vorrei precisare siccome prima me l'ha chiesto adesso mi sto ricordando che quando io l'ho toccato che non avevano tutti la stessa forma alcuni sembravano chicchi di riso alcuni sembravano pezzi di sale grosso alcuni sembravano coriandoli avevano dei colori leggermente diversi ossia ossia cioè sempre sulla stessa tonalità però qualcuno più chiaro e qualcuno più scuro sì e ha avuto qualche sensazione olfattiva o no? adesso questo non non lo ricordo guardi le faccio una domanda diretta le appunto il naso come si dice o no? mi ha dato fastidio al naso? non se lo ricordo non me lo ricordo non me lo ricordo senta toccandolo lasciava unto? no no ma io cioè l'ho toccato solo con i diti perché anche avevo ecco le dita toccandolo con la mano no? la mano poi restava unta o no? no per quello che ricordo io no di fatti poi mi spiegò però io non ho visto come ha fatto il procedimento il malpassodo mi spiegò che quello lì doveva essere impastato penso con l'acqua e diventava come come il pongo quello che fanno come la creta diventava compatto sì abbiamo risolto bene l'idea cioè si prendeva questi chiamiamogli questi chicchi li si mettevano nell'acqua va bene? sì li si manipalavano un po' poi veniva fuori un pongo giusto? sì sì capito senta da quello che lei può aver saputo poi ai palermitani di questi 300-400 chili quanto quanto andò lo sa? questo non glielo saprei dire quanto di preciso ce ne andò so che fu mandato perché in particolare fu mandato i lanciamissili i bazooka e questo l'esplosivo come come armi perché le pistole poi alla fine le pistole non è che sono risultati senta le chiedo un'altra cosa se lei lo sa prima che questa partita di armi esplosivo fosse consegnata ai palermitani venne qualcuno di loro a visionare queste armi e questo esplosivo o no? per quanto riguarda quelli che perché poi queste armi sono state divise tra noi gruppo malpassoto che avevamo un posto dove tenerli e il gruppo catanese per quanto riguarda il gruppo malpassoto quelli che tenevamo noi non mi risulta poi per Catania non lo so perché c'erano incontri settimanali con i palermitani anche delle volte più di una volta alla settimana dipende delle esigenze che loro avevano allora vediamo se abbiamo capito armi ed esplosivo i palermitani furono dati non dal gruppo malpassoto no personalmente dal gruppo malpassoto no furono dati dal dal Santa Paola però era la stessa cosa perché le armi senta e lei da chi l'ha saputo che i palermitani hanno preso questo carico ma l'ho saputo da mio cugino da Piero Puglisi da da Alder Colano si sapeva che si dovevano mandare a Palermo perché di fatti l'esplosivo a noi come gruppo malpassoto ce n'è rimasto poco è andato quasi tutto a Catania perché lo dovevano mandare ai palermitani poi dopo l'esplosivo io personalmente ho assistito alla conversazione quando Pippo Grazioso mi è andato a chiamare a Piero Puglisi che erano arrivati due telecomandi a distanza questo dopo però no? sì questo dopo quanto tempo dopo? ma qualche mese dopo siamo sempre nel 92? sì siamo sempre nel 92 lei non sa dei palermitani chi trattò questa vicenda proprio come nome voglio dire lei prima ha parlato di Brusca Gioe la Barbera e di Matteo anche non sa se furono questi personaggi a trattare la partita o altri io so che la persona referente su questa cosa era la Barbera e il Gioe più che altro il Gioe era ma lui si rapportava direttamente con Giovanni Brusca anche perché in quel periodo so che più volte da Catania sono partiti in particolare Enzo Aiello Piero Puglisi e sono andati a trovare direttamente il Brusca per questa partita di armi esplosivo ma sia nel periodo di questa partita di armi ed esplosivo sia per queste cose sia anche per parlare di penso di altro cioè lei dice questi personaggi erano quelli deputati a tenere rapporti con i palermitani insomma segnatamente con Brusca si se non se non ricordo Brusca era latitante in quel periodo se non era una cosa strettamente importante non si va a trovare un latitante normalmente allora venivano i rapporti venivano o venivano loro e venivano Nino Gioe veniva e Gioecchino la Barbera e delle volte accompagnato con Santino Di Matteo per esempio quando c'è stato il fatto che nel 1993 subito dopo l'arresto di Salvatore Reina c'è stato un incontro che loro hanno chiesto direttamente con mio zio Giuseppe Polvirenti dove io sono arrivato alla fine dell'incontro e il Polvirenti mi ha detto che c'era stato Gioe c'era stato la Barbera c'erano stati anche membri della famiglia di Nitto Santa Paola dove si chiedevano un appoggio per l'uccisione del giornalista Maurizio Costanzo e di fatti poi con mio zio avevamo un po' parlato di questa cosa e mi aveva messo in conto su una mia partecipazione all'attentato a Costanzo cosa che poi non è avvenuta da parte mia ho capito ho capito senta un'ultima cosa forse l'ha già detto e mi è sfuggito lei sa dove e se sa chi portò poi questa partita di armi d'esplosivo ai palermitani allora io so che un un viaggio sicuro è stato fatto da Cosimo Bonaccorso quel carabiniere che ho detto prima che era a stipendio sia con noi catanesi che lo conoscevamo da prima e poi anche con i palermitani però se sono stati portati tutti in una volta o in diverse volte questo non glielo saprei dire e non sa dove Cosimo Bonaccorso portò questa partita questo non glielo so dire io so che Cosimo Bonaccorso più che altro si rapportava con un loro referente un certo Enzo Meli che era cugino dei Pullarà ed era in stretto contatto anche con noi che se glielo ha portati a lui oppure glielo ha portati a un altro che era sempre vicino al Meli ed era uno stretto uomo di Giovanni Brusca un certo Angelo Romano non glielo saprei dire va bene va bene grazie grazie a lei buongiorno sempre del pubblico ministero io voglio chiedere invece alcune specificazioni su una cosa che ha già riferito su domanda del difensore cioè sto facendo riferimento all'incarico che le dà Aldo Ercolano di cercare questo immobile lei ha detto nella zona dei Letoianni giusto? sì Letoianni Santa Teresa adesso è il paese di preciso perché lì ci sono più comuni sì lei ha parlato del 92 ma siamo prima o dopo le stragi comunque se riesce a collocarlo nel tempo siamo prima delle stragi siamo questo incarico io per l'esattezza lo ebbi tra la fine del 91 non so se era dicembre inizi inizi 92 lei poi a questo incarico ha dato seguito cioè si è attivato secondo quello che le aveva chiesto Aldo Ercolano sì da prima ci siamo attivati sono andato a fare dei sopralluoghi e ho riferito che l'immobile presentava le caratteristiche che loro richiedevano cioè perché scusi Aldo Ercolano le dà un'indicazione specifica cioè proprio di un immobile specifico giusto sì Aldo Ercolano ci ha dato non ero da solo quando ho fatto queste cose ero unitamente a Salvatore Grazioso ci ha dato delle indicazioni di vedere ci ha dato l'obbligazione di quell'immobile di risalire chi erano i proprietari perché si doveva prendere che serviva a tutti i costi per questa specie di associazione ma Aldo Ercolano lei sa come lo è individuato quell'immobile cioè se era una sua iniziativa se qualcuno gliela aveva suggerito come c'era arrivato a questo momento Aldo Ercolano disse che ne avevano parlato con gli amici anche di Palermo era una cosa che interessava un po' tutta la cosa nostra per quella che mi fece capire in particolar modo ce l'avevano a cuore gli amici di Palermo di Totoreina e noi catanesi e in più c'era c'erano questo personaggio in particolare questo cattafi che diciamo era quello che poi successivamente doveva coordinare doveva coordinare il tutto per quello che ho capito io ho capito senta quindi lei lo va a visionare siccome ha parlato al plurale è lei da solo o va con altri no vado con Salvatore Grazioso lo vedete e poi che cosa che succede che cosa dite ad Alder Colano abbiamo detto che l'immobile aveva le caratteristiche che lui ci aveva descritto in quanto si trovava non troppo isolato perché si trovava sulla litorania la strada la vecchia strada che costeggiava il mare ed aveva sia l'accesso da parte della strada e sia anche l'accesso da parte del mare che vi era tipo una spiaggetta privata cioè c'era modo di arrivare sia via mare e sia dalla strada normale e poi più che altro il Grazioso che aveva più a ganci di me nel in quel territorio del messinese si attivò per sapere di chi fosse quell'immobile e poi dovevamo costringerli questi qui o ad affittarlo o di venderlo direttamente loro preferivano più acquistarlo più che altro o affittarlo adesso non ricordo bene ma lei sa se poi questa cosa è andata in porto alla fine? ma io so che poi poi noi abbiamo avuto abbiamo cominciato a avere dei problemi il Grazioso è stato arrestato nel gruppo del Malpassoto ci avevamo dei problemi interni che sapevamo che c'erano delle persone che potevano danneggiare l'organizzazione e potevano anche iniziare un'eventuale collaborazione con la giustizia e abbiamo dovuto fare un'operazione di pulizia ed io ho mollato un po' la cosa però negli incontri diciamo giornalieri che facevo con Aldel Colano poi ho saputo che per quanto riguarda quest'immobile non so se erano riusciti ad affittarlo mi sembra e avevano cercato di organizzare un incontro e poi la cosa mi disse è stata lasciata andare ed è stato spostato il tutto nella provincia messinese adesso nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto diciamo vicino il territorio in cui aveva dimestichezza questo cattafi dice mi faccia capire se ho compreso dice noi poi dopo quel periodo per le ragioni che già ci ha detto abbiamo avuto dei problemi avevano avuto dei contatti preliminari per cercare di vedere questi immobili però proprio per quei problemi abbiamo lasciato perdere di occuparci noi della cosa giusto? si poi se non ho capito male Aldo Ercolano le dice che invece questo progetto di costituire questo club come l'ha chiamato lei si era invece spostato sul territorio di competenza di cattasi si mi dice mi dice che si erano spostati di là perché forse erano nati dei problemi mi dice che adesso se non ricordo male che c'era stata erano riusciti poi l'incarico essendo venuto meno il grazioso e io avendo altri incarichi non so se è stato passato un'altra persona per acquisire questo immobile lui mi parlò di un incontro che c'era stato e forse non erano rimasti soddisfatti tutte queste dice lo sai abbiamo lasciato perdere lì è la stessa cosa l'hanno individuata lì nella zona del barcelonese e si sta interessando questo questo cattavi perché nasce questo discorso non è che nasce su mia domanda diretta siccome stavamo parlando a me avevano fatto una proposta di un grosso guadagno di dello smaltimento di materiale nucleare la vendita di materiale nucleare proveniente dall'ex Jugoslavia e io mentre parlavo di questo con Alder Colano Alder Colano mi ha detto di lasciar perdere perché era già in atto un'attività del genere sempre con riferimento a questa specie di club quindi da questo discorso se non ho capito male lei ha compreso che questa attività era già operativa cioè che si era riuscito a costituire questo club come lo chiamate sì da questo discorso quando lui mi ha detto no lascia perdere perché già lo stiamo facendo abbiamo i contatti con l'Africa collegati sempre con quel discorso lì di quel club che doveva dove ti avevo dato quell'incarico però è stato vago non è che siamo scesi quando glielo fa questo discorso il colano da cui lei capisce che poi questa cosa si era concretizzata questo discorso me lo fa nel 92 prima o dopo le stragi adesso non glielo so dire mi sembra di preciso non glielo so dire adesso mi sembra facendo mente locale che io ero impegnato siamo nel periodo delle stragi a cavallo tra la prima e la seconda senta ultima cosa che le volevo chiedere lei ha detto nel momento in cui Aldo il colano le dà questo incarico che la costituzione di questo di questo club chiamiamolo così doveva servire a io ho segnato tessualmente progetti affaristi per cosa nostra cioè che cosa le tendeva a significare che in che cosa avrebbe dovuto in che cosa avrebbe dovuto avere operatività questo questo club dove si dovevano incontrare queste persone di ambienti diversi ma lui parlava di grandi appalti di quote all'interno di di lavori che dovevano che dovevano essere effettuati in Sicilia parlava anche di contatti con il mondo istituzionale mi diceva che da lì dovevano passare le grosse i grossi affari della della Sicilia ma le fa qualche riferimento anche alla politica cioè questo luogo di incontro doveva servire anche a progetti politici per quello che ha compreso o era limitato a affari appalti a me personalmente a progetti politici no però me l'ha fatto intendere che c'era di mezzo qualcosa anche di politico però se devo dire che senso l'ha fatto intendere perché quando mi parlava che dovevano partecipare membri delle istituzioni membri del mondo dell'imprenditoria parlava anche di membri appartenenti alla politica tra cui all'epoca si parlava di un non so se era ministro in quel periodo loro puntavano molto su un certo Capria che poi un certo Capria Capria si ma di di che origine era questo Capria lo sa questo Capria mi sembra che era un politico del messinese ed era in stretto contatto con questo Cattafi e l'unica cosa che posso dire per quanto riguarda a riferimento a a a a livello politico è stato questo le vengono fatti anche altri nomi di persone che avrebbero avuto dovuto avere questi questi contatti queste reazioni perché lei ha parlato terzionalmente prima di luogo in cui si sarebbero dovuti incontrare appartenenti a cosa nostra imprenditori e gente delle istituzioni gente delle istituzioni di che contesto e se le viene fatto qualche nome no no rimane sul vago sul generico e il contesto perché sa istituzioni è un termine un po' generico se le ha fatto capire o se le ha detto espressamente di che contesto istituzionale stessimo parlando nel contesto istituzionale si parlava di magistratura di forza dell'ordine di politici locali in poche parole si era deciso che non erano più non si doveva usare il vecchio metodo di andare a minacciare gli imprenditori e questo c'è dice lì ci si siede in un tavolo e ognuno avrà il suo pezzo di torta per dirla volgarmente e un'ultima cosa le volevo chiedere e anche qua se non ho compreso male mi correggerà lei ha detto questo era un progetto che interessava principalmente agli amici palermitani giusto ho capito bene cioè l'input per creare questo luogo di incontro di scambio di favori e quant'altro era un input che proveniva dagli amici palermitani sì l'input proveniva sia dagli amici palermitani cioè interessava questo qua se si facevano cose del genere a tutta cosa nostra chiaramente a tutta cosa nostra però l'input era dagli amici di palermo e da da santa paola anche perché su messina c'era come si suol dire un tipo un doppio controllo e addirittura per quanto riguarda le storie del messinese non è che veniva una persona qualunque li trattava quasi sempre in prima persona Leo Luca Bagarella il cognato di Reina che è una cosa diciamo un po' anomala un po' anomala vuol dire che l'interesse deve essere molto alto per rischiare un prezzo del genere ho capito come altrettanto Santa Paola mandava gli elementi i più responsabili dell'organizzazione o addirittura so che lui stesso più volte è stato in quei posti in quei posti come latitante intende giusto? Sì come latitante e anche come contatti diretti adesso non so se ne approfittava nel periodo di latitanza so che per un periodo è stato lì qualche qualche mese nel 1992 e poi si è dovuto spostare Senta l'ha già detto però lo specificiamo quando lei fa riferimento agli amici palermitani fa riferimento alle persone di chi? Quando io faccio riferimento agli amici di Palermo faccio riferimento ai corleonesi di di Reina e Provenzano Ultima cosa ho davvero concluso le fanno il nome o comunque lei ha compreso che in questo progetto rientrassero anche politici palermitani? Guardi loro non rifiutavano niente loro hanno parlato è stato un discorso generico se mi hanno fatto un nome all'eccezione del di quel Capria che poi non so se era sottosegretario al governo dicevano che era un pezzo grosso della politica ho capito ma ci dovevano essere anche appartenenti ai servizi segreti in questo contesto di incontri e relazioni per sempre per quello che ha compreso siccome lei prima ha detto per quello che mi è stato riferito sul conto di Cattafia una persona che vantava amicizia in vari ambienti ha fatto riferimento anche ai servizi segreti allora io le chiedo se in questo contesto per quello che ha saputo dovevano entrarci in qualche maniera anche appartenenti ai servizi segreti sì questo mi è stato fatto intendere ma le viene lei ha mai capito poi se ci potesse essere un qualche tipo di relazione tra tutto quello che avviene dal 92 al 93 a questi contatti che si erano creati e almeno sempre per quello che le dice Aldo El Colano nel messinese attraverso Cattafia no perché poi io nel novembre del 90 parte come ho detto prima era impegnato in prima persona a risolvere i problemi all'interno del gruppo perché io in quel periodo dirigevo due gruppi il gruppo di mister Bianco e il gruppo di San Pietro Clarenza erano i gruppi più numerosi dell'ala del malpassoto diciamo di Giuseppe Pulvirenti sempre strettamente collegata con Catania poi per quanto riguarda Aldo El Colano mi aveva dato anche l'incarico di intrattenere i rapporti con i gruppi contrari che in quel periodo c'era una strategia in atto c'era una strategia di questi gruppi di fusione gruppi che operavano in grossi paesi dell'Interland del circondario etneo come Paternò come a Drano a Biancavilla a Bronte e quindi ero operato di impegni non è che potevo abbracciare tutto poi nel novembre del 92 è partita l'operazione aria pulita 1 e quindi sono dovuto sono dovuto andare latitante pure io e durante la latitanza è più difficile potersi cioè non avevo la libertà di movimento è più difficile poter intervenire su queste cose anche perché nel gruppo del malpassato quasi tutti gli uomini d'onore erano stati arrestati e non potevo dare l'incarico così importante a una persona che senza essere autorizzato da minimo dal capo dei Cina o direttamente dal rappresentante familiare che era Salvatore Santa Paola o direttamente dal Santa Paola stesso ho capito va bene grazie signor Malvagna non ho queste domande grazie presidente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti